cari amici di mille un'avventura in questo video iniziamo una nuova serie dove tenteremo di battere ogni record infatti proveremo a ricreare dei mini giochi in pochi minuti per esempio in questo caso vogliamo iniziare con breakout videogioco del 1976 realizzato da atari che consiste in questo pad in questa paletta che fa rimbalzare una pallina contro un muro che deve essere distrutto e quindi proveremo a ricreare questo gioco in facciamo 10 minuti non credo che ci riusciremo ma ci proviamo quindi una nuova serie proviamo e sicuramente se vi piacciono questi video cliccate su mi piace se non siete iscritti iscrivetevi e ricordatevi anche la campanellina per non perdere nessuno di questi video ecco le meccaniche di breakout penso che non abbiano bisogno di presentazioni c'è stata una versione chiamata arcanoid successiva ma noi ci rifacciamo appunto all'originale breakout e qui ci sono tante immagini che ricordano questi mattoncini colorati che la nostra pallina deve demolire per vincere il gioco e per realizzare questo questa rievocazione di breakout utilizziamo wik editor che abbiamo già trattato sul canale è un editor molto semplice di mini giochi animazioni e quant'altro e quindi si presta molto bene a realizzare giochetti 2d in due dimensioni del tipo di breakout arcanoid e così via e allora proviamo lanciamo subito il nostro countdown il nostro cronometro e cerchiamo di ricreare questo semplice gioco impostiamo impiegherò 10 minuti solo per far partire il cronometro vediamo se riesco a trovarlo allora il nostro cronometro ci gli diamo un po di tempo per partire lo visualizziamo ecco aspettiamo questi 6 5 4 3 2 1 e via partiamo realizzando il nostro breakout la prima cosa che dobbiamo fare in questo wik editor è sicuramente cambiare il colore di sfondo mettiamo un bel arancione no è troppo scuro un colore un po più sto perdendo già 15 secondi per scegliere il colore di sfondo e come vedete neppure sono riuscito a memorizzarlo poi mettiamo il frame rate a 60 frame al secondo per non avere un'animazione troppo scattosa e la cosa successiva è creare la nostra paletta bruttissima questa paletta non ci piace assolutamente perché è di colore nero quindi prima di creare la paletta che farà rimbalzare la pallina scegliamo un bel colore per esempio un bel colore rosato ed ecco qui la nostra paletta bella devo ammettere che mi è venuta benissimo ecco questa paletta di colore rosa poi ci sarà la nostra pallina e facciamo gialla visto che è un colore abbastanza appariscente vediamo se si vede bene questa pallina gialla direi di sì e poi ci vogliono i mattoncini mattoncini sono come questa paletta che ho realizzato e li facciamo ovviamente dovremmo cambiare colore ma in dieci minuti non ce la faremo mai e quindi li facciamo di colore verde ecco questo bel verde rappresenta ma ovviamente ho sbagliato perché dovevo creare un rettangolo per fare questi mattoncini ed ecco qui il nostro mattoncino bello grosso così non possiamo evitare di colpirlo a questo punto però se noi eseguiamo il gioco non succede nulla vedete tutto fermo e allora iniziamo sicuramente a modificare la paletta la paletta la comandiamo con il nostro mouse e quindi siamo già 8 minuti quindi la cosa sta diventando davvero preoccupante la nostra paletta la comandiamo col mouse bisogna su wiki editor creare uno uno script aggiungere uno script che è comandato dalla funzione update e nella funzione update scriveremo dis.x uguale mouse x mentre la y della nostra paletta non ci interessa lo lasciamo lì dov'è se adesso eseguiamo vedete che il mouse si vede la freccetta del mouse che si sposta sta seguendo la paletta sta seguendo il nostro mouse quindi questa cosa sta già funzionando adesso interrompiamo la simulazione adesso ci vuole però il movimento della pallina la pallina deve rimbalzare e di conseguenza creiamo un oggetto sempre cliccando su make clip in default nella funzione che viene eseguita ogni volta che la pallina viene creata intanto siamo già a 7 minuti mancano siamo presi dalla frenesia mettiamo una variabile speed x che è la velocità che possiede la pallina lungo la componente x facciamo 5 pixel e this y invece this speed y è la velocità che ha la pallina lungo l'asse y facciamo meno 5 queste sono le velocità impostate nel metodo default aggiungiamo adesso invece nella timeline il metodo update che si occuperà di spostare la pallina quindi dis x uguale mouse x no sbagliato dis x uguale dis speed x che andremo a sommare la componente x della nostra paletta e poi facciamo la stessa cosa con la componente y vediamo se funziona questa velocità o se dobbiamo modificarla vediamo ecco la pallina è molto veloce quindi sicuramente dobbiamo metterci a ridurre un po la velocità mettiamo diviso 2 ecco e quindi la pallina partirà vedete con questa sua inclinazione però non si ferma le pareti vedete e allora dobbiamo sempre modificare la funzione update aggiungendo if dis.x è minore di dis.width diviso 2 quindi se la pallina va troppo a sinistra che cosa faremo andremo a modificare la velocità della pallina la faremo la faremo rimbalzare scrivendo dis.speed x uguale meno dis.speed x per far rimbalzare la pallina semplicemente cambiamo il segno della velocità e siamo già a 4 minuti e 42 secondi non ci riusciremo mai a finire in 10 minuti era meglio fare 20 minuti mezz'ora un'ora probabilmente sarebbe stato meglio quindi mentre la velocità in verticale non ci interessa cambiarla andiamo a cambiare anche quello che succede quando la posizione della pallina finisce oltre lo schermo le dimensioni dello schermo sono date da project.width a cui andiamo a sottrarre la larghezza della pallina diviso 2 c'è ancora da sistemare la parte sopra della pallina la parte sopra di questo urto lo andiamo a verificare scrivendo dis.y minore di 0 anzi minore di dis8 l'altezza della pallina diviso 2 e quindi a questo punto cambiamo la componente y della pallina andiamo a vedere se funziona questa prima parte eseguiamo e mancano 3 minuti e mezzo ecco che la pallina rimbalza correttamente però ancora vedete attraversa la paletta non va bene così allora cosa facciamo quando la pallina incontra la paletta dobbiamo fare in modo che rimbalzi e allora andiamo a prendere la nostra paletta nel metodo update della paletta non solo controlliamo la posizione della paletta ma andiamo a scrivere che se vediamo qual è la funzione che bisogna usare per le collisioni tra la pallina e la paletta eccolo qui allora se la paletta urta la pallina però scusate devo dare un nome alla pallina se no non si capisce la pallina si ma ball ecco torniamo nell'update della paletta allora se la paletta incontra la pallina cosa dobbiamo fare dobbiamo fare mancano due minuti e mezzo dobbiamo cambiare la componente della velocità della pallina quindi dovremmo scrivere ball punto speed y uguale a meno ball punto speed y cambiamo la componente verticale andiamo a vedere se funziona la pallina rimbalza adesso sta arrivando contro la paletta ed è rimbalzata effettivamente però vedete che attraversa ancora il nostro blocchetto allora abbiamo due minuti per far sparire il blocchetto quando viene colpito dalla pallina quindi il blocchetto lo facciamo diventare anche lui qualcosa di comandato da uno script ecco nella funzione timeline update dobbiamo mettere che se il blocchetto viene colpito dalla pallina e non è qui che si trova sto perdendo tempo c'è solo un minuto e mezzo allora che facciamo sono nel panico più totale ecco object if il se il blocchetto col è colpito dalla pallina il blocchetto deve sparire quindi scriviamo dis punto remove e vediamo se funziona partiamo la pallina rimbalza manca un minuto ecco che la pallina viene mandata verso l'alto colpisce il blocchetto il blocchetto è stato rimosso però non come volevamo perché se c'è un urto col blocchetto e vediamo se in questi 48 secondi ce la facciamo aiuto il blocchetto update vogliamo anche che la pallina cambi la velocità ball.speed y uguale a meno ball.speed y 30 secondi per verificare questa cosa se ha funzionato spero sia tutto giusto allora la pallina va a rimbalzare la rimandiamo contro il blocchetto il blocchetto sparisce la pallina rimbalza abbiamo in 13 secondi finito quello che potevamo fare in 10 minuti e quindi tra poco ci sarà un'esplosione di fuochi artificiali ecco non so se si sente comunque ecco che abbiamo finito va bene abbiamo capito non so come si ferma questa cosa fermati ecco me lo studierò per adesso lo zittisco semplicemente e vado anche a zittire qua così non lo sento e questo è il modo più semplice bene in 10 minuti siamo riusciti a fare questo ovviamente c'è tanto ancora da fare per esempio vediamo qualche cosa oltre 10 minuti no che in effetti erano un po' utopistici anche un gioco semplice come breakout arcanoid in 10 minuti con la mia velocità non è anche con l'aiuto di wick editor non è che si sia potuto fare insomma un po' impossibile però vediamo alcune aggiunte che potremmo fare tranquillamente allora possiamo mettere un punteggio quindi qua in altro mettiamo score due punti zero qui sopra metteremo il nostro punteggio così verdino è assurdo andiamo a modificarlo un attimo lo mettiamo nero così si vede bene e lo facciamo anche spesso bold quindi qua in alto c'è il punteggio vedete il punteggio ogni volta che facciamo sparire un blocchetto deve aumentare di una unità quindi il punteggio questo score lo chiamiamo score tanto perché abbiamo fantasia e questo blocchetto qui sotto andiamo a editare update quando la pallina rimuove il blocchetto prendiamo score e modifichiamo anzi facciamo così mettiamo che sulla palla gli aggiungiamo una variabile che si chiama score che è il punteggio totale raggiunto quindi lo score è zero all'inizio però quando il blocchetto sparisce andiamo a modificare qui il punteggio memorizzato nella pallina score viene aumentato di una unità usando il solito operatore più più e poi lo score che è il testo andiamo a scrivere set text aperta parentesi score due punti spazio e andiamo ad aggiungere ball punto score ecco questo è il metodo che si può usare ogni volta che sparisce un blocchetto per aumentare il punteggio proviamolo subito così non abbiamo sorprese successivamente ed ecco che la pallina torna su e quando sparisce il blocchetto il punteggio aumenta di una unità ecco a questo punto ci sarebbero tante altre cose da fare per esempio quando la pallina urta il nostro la nostra paletta con molto vicino al centro potrebbe salire in verticale facciamolo ma visto che ci siamo facciamo anche questo allora se la pallina tocca vicino al centro della paletta facciamo in modo che la velocità della pallina diventi più verticale quindi qua dove c'è scritto che la pallina deve invertire la sua velocità andiamo anche a modificare la x la velocità x della pallina e facciamo in modo che diventi uguale alla differenza tra la posizione della paletta meno la posizione della pallina quindi se la paletta viene colpita al centro la pallina salirà in verticale se viene toccata molto a destra molto a sinistra si sposterà probabilmente sarà molto più inclinata bisogna un po ridurlo probabilmente mettiamo un diviso 2 vediamo se funziona questa cosa la pallina sale scende incontra la paletta cerchiamo di ecco vedete l'ho urtata praticamente a metà ah no ho sbagliato il segno scusate ho sbagliato il segno della ecco qui devo scrivere mettiamo un segno meno davanti così quando colpisce a sinistra si inclina di più a sinistra e viceversa ecco questo l'abbiamo fatto a questo punto per concludere non ci resta che copiare varie volte il nostro blocchetto possibilmente si dovrebbe cambiare colore ma adesso non abbiamo tempo perché abbiamo ampiamente superato i nostri 10 minuti siamo nell'extra time abbiamo inserito una nuova moneta per avere più tempo a nostra disposizione e andiamo a copiare ancora questa fila poi andiamo a copiare tutta questa fila così facciamo ancora prima la mettiamo qui sopra immaginate di vedere colori diversi che ovviamente non ci sono e adesso abbiamo praticamente il nostro gioco bisognerebbe ancora fare in modo che una volta distrutte tutti i blocchetti al posto di score venga scritto hai vinto o qualcosa del genere comunque direi che abbiamo già fatto tantissimo facciamo partire ecco la prima il primo punto che abbiamo conseguito il secondo punto adesso il terzo cerchiamo di ecco di verticalizzarla un po il quarto punto diamo ancora un po di inclinazione il quinto ecco è interessante sì non è proprio fatto benissimo questa idea di come l'ho implementata è pericolosissima perché adesso sicuramente ecco sono riuscito a prendere la pallina volevo infilarmi un po sopra ma non ci sto riuscendo ecco un paio di blocchetti sono riuscito a eliminarli non sono riuscito a infilarmi sopra per eliminare tutta la riga superiore pazienza vinceremo lo stesso in questo modo abbiamo mancato gli ultimi tre pezzi ci siamo quasi ecco che questo l'abbiamo distrutto non si muove più perché il cursore era finito sotto ma abbiamo vinto al diciottesimo pezzo ed ecco che il nostro breakout arcanoid che dovrebbe dire anche hai perso quando la pallina finisce giù di sotto è praticamente completo bene non so se vi è piaciuta questa cosa così particolare se vi piace scrivete nei commenti che dovrei farne altri magari suggerite che tipi di giochi semplici due dimensioni cose di questo genere potrei provare a fare in dieci minuti ovviamente in dieci minuti qualunque tipo di gioco è impossibile c'è gente che ci riesce ma io sono lento e quindi suggerite nei commenti che giochi vi piacerebbe vedere e vediamo se ci riesco a realizzarli in meno di mezz'ora come spero di avere fatto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in uno dei prossimi video ciao a tutti